Enzo Brasolin e Giuseppe Ezzinosa leggono I ciechi di Cesare Pavese da Dialoghi con Leuco. Vecchio Tiresia Devo credere a quel che si dice qui in Tebe, che ti hanno accecato gli dèi per la loro invidia? Se è vero che tutto ci viene da loro, devi crederci. Tu che dici? Che degli dèi si parla troppo. Essere cieco non è una disgrazia diversa da essere vivo. Ho sempre visto le sventure toccare a suo tempo dove dovevano toccare. Ma allora gli dèi che ci fanno? Il mondo è più vecchio di loro. Già riempivano spazio e sanguinava, godeva, era l'unico Dio quando il tempo non era ancora nato. Le cose stesse regnavano allora. Accadevano cose. Adesso attraverso gli dèi tutto è fatto parola, illusione, minaccia. Ma gli dèi possono dare fastidio, accostare o scostare le cose. Non toccarle, non mutarle. Sono venuti troppo tardi. Proprio tu, sacerdote, dici questo? Se non sapessi almeno questo non sarei sacerdote. Prende un ragazzo che si bagna nella sopo. È un mattino d'estate. Il ragazzo esce dall'acqua. Ci ritorna felice. Si tuffa e rituffa. Gli prende male e annega. Che cosa c'entrano gli dèi? Dovrà attribuire agli dèi la sua fine? Oppure il piacere goduto? Nell'uno, nell'altro. È accaduto qualcosa che non è bene né male. Qualcosa che non ha nome. Gli daranno poi un nome gli dèi. E dare il nome? Spiegare le cose? Ti par poco, Tiresia? Tu sei giovane, tipo. E come gli dèi che sono giovani rischiare tu stesso le cose e le chiami. Non sei ancora che sotto la terra c'è roccia, che il cielo più azzurro è il più vuoto. Perché come me non ci vede. Tutte le cose sono un urto, non altro. Ma sei pure vissuto praticando gli dèi. Le stagioni, i piaceri, le miserie umane ti hanno lungo occupato. Si racconta di te più di una favola, come di un dio. E qualcuna così strana, così insolita, che dovrà pure avere un senso. Magari quello delle nuvole nel cielo. Sono molto vissuto. Sono vissuto tanto che ogni storia che ascolto mi pare la mia. Che senso dici delle nuvole nel cielo? Una presenza dentro il vuoto. Ma qual è questa favola che tu credi abbia un senso? Sei sempre stato quel che sei, vecchio Tiresia? Ti afferro. La storia dei serpi, sì. Quando fui donna per sette anni. Ebbene, che ci trovi in questa storia? A te è accaduto e tu lo sai. Ma senza un dio queste cose non accadono. Tu credi? Tutto può accadere sulla terra. Non c'è nulla di insolito. A quel tempo provavo disgusto delle cose del sesso. Mi pareva che lo spirito, la santità, il mio carattere, ne fossero avviliti. Quando vidi i tuoi serpi godersi e mordersi sul muschio, non potei trattenere il mio dispetto. Li toccai col bastone. Poco dopo ero donna. E per anni il mio orgoglio fu costretto a subire. Le cose del mondo sono roccia ed ipo. Ma è davvero così vile il sesso della donna? Niente affatto. Non ci sono cose vile se non per gli dèi. Ci sono fastidi, disgusti, illusioni. Che toccando la roccia diregono. Qui la roccia fu la forza del sesso. La sua obiquità e unipresenza sotto tutte le forme e i mutamenti. Da uomo a donna e viceversa. Sett'anni dopo, rividi i due serpi. Quel che non volevi consentire con lo spirito mi venne fatto per violenza o per libidine. Ed io, uomo sdegnoso o donna avvidita, mi scatenai come una donna. E fui abbietto come un uomo. E seppi ogni cosa del sesso. Giunsi al punto che uomo cercavo gli uomini e donna le donne. Vedi dunque che un dio ti ha insegnato qualcosa? Non c'è dio sopra il sesso. È la roccia, ti dico. Molti dèi sono belve, ma il serpe è il più antico di tutti gli dèi. Quando si appiatta nella terra, ecco, è l'immagine del sesso. C'è in esso la vita e la morte. Quale dio può incarnare e comprendere tanto? Ma tu stesso, l'hai detto? Tiresia è vecchio e non è un dio. Quando era giovane ignorava. Il sesso è ambiguo, è sempre equivoco. È una metà che appare un tutto. L'uomo arriva a incarnarselo, a viverci dentro come il buon nuotatore nell'acqua. Ma intanto è invecchiato. Ha toccato la roccia. Alla fine è un'idea, un'illusione, di resta, che l'altro sesso ne esca sazio. Ebbene, non crederci. Io so che per tutti è una vana fatica. Ribattere a quanto tu dici non è facile. Non per nulla la tua storia comincia coi serpi. Ma comincia pure col disgusto, col fastidio del sesso. E che diresti a un uomo valido che ti giurasse di ignorare il disgusto? Che non è un uomo valido. È ancora bambino. Anch'io, Tiresia, ho fatto incontri sulla strada di Tebe. E in uno di questi si è parlato dell'uomo, dall'infanzia alla morte. E si è toccata la roccia anche noi. Da quel giorno fui marito e fui padre e re di Tebe. Non c'è nulla d'ambiguo divano per me nei miei giorni. Non sei il solo edipo a credere questo. Ma la roccia non si tocca a parole. Che gli dèi ti proteggano. Anch'io ti parlo e sono vecchio. E soltanto il cieco sa la tenebra. Mi pare di vivere fuori dal tempo. Di essere sempre vissuto. E non credo più ai giorni. Anche in me c'è qualcosa che goda e che sanguina. Dicevi che questo qualcosa era un dio. Perché, buon Tiresia, non provi a pregarlo? Tutti preghiamo qualche dio. Ma quel che accade non ha nome. Il ragazzo ha negato un mattino d'estate. Cosa sa degli dèi? Che gli giova a pregare? C'è un grosso serpe in ogni giorno della vita. E si appiatta. E ci guarda. Ti sei mai chiesto edipo perché gli infelici, invecchiandosi, accecano? Preggo gli dèi perché non mi accada. Enzo Brasolin e Giuseppe Izzinosa hanno letto I ciechi di Cesare Pavese Da Dialoghi con Leuco Audio Teatro fa parte di Almicrofono.it Ove potete trovare audiodrammi, audio classici e audio racconti. Audio Teatro si può ascoltare su Spreaker, iTunes, Spotify, sul canale Giuseppe Izzinosa di YouTube. Se vi è piaciuto questo podcast siete invitati a lasciare il vostro like. Iscrivetevi a questo canale per non perdere i prossimi podcast. Buon ascolto.